Buonasera, ben arrivati, benvenuti. Siamo una settimana pasquale ma ci siamo. Questa sera abbiamo l'art nouveau dalla secessione viennese al modernismo di Gaudì. Affrontiamo pochi autori, però affrontiamo anche un discorso generale su l'art nouveau perché si sviluppa in diversi paesi. Allora, l'art nouveau è il nome con cui viene conosciuta dallo Stato, dal paese in cui nasce, che è la Francia, però prende nomi diversi a seconda dei diversi ambienti, dei diversi stati. In Italia abbiamo il nome di Liberty o stile floreale, Secession Stile o stile della secessione in Austria, Jugendstil in Germania e poi in Spagna il modernismo. Il linguaggio però è lo stesso, non ci sono differenze sostanziali. L'art nouveau è poi una stile o una moda, comunque sia un aspetto artistico che coinvolge non solo le arti maggiori ma un po' tutti i campi dall'arte vera e propria che noi conosciamo, l'artigianato e anche la produzione industriale. Quindi architettura, pittura, redi, che molto spesso sono realizzati in stretto connubio con gli edifici che li ospitano e poi oggetti d'uso, che però diventano oggetti di design. Allora, l'arte de la nouveau, il Liberty, è lo stile della Belle Epoque, cioè di un periodo storico ben preciso, che va dagli anni 80 dell'Ottocento fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ed è quindi un periodo di prosperità, di pace, di progresso anche industriale, anche veramente tecnico, economico, ma anche qualcosa che è nell'aria, nel senso che soprattutto la classe borghese vive un momento che sembra di grande benessere, in cui pare essere inarrestabile questo stesso progresso e quindi c'è una grande fiducia nel futuro. L'art nouveau è in effetti proprio lo stile della nuova società industriale perché andrà a coinvolgere la produzione industriale con una produzione che diventa appunto di design, ma anche perché coinvolge i nuovi materiali che sono nati dalla seconda rivoluzione industriale, quindi l'uso del ferro, del vetro, della ghisa, del cemento, del cemento armato. Per quanto riguarda gli oggetti di produzione industriale, lo scopo è anche quello di migliorare la qualità estetica di questi stessi oggetti d'uso, in modo da restituire una certa dignità, perché gli oggetti artigianali che erano prodotti prima della rivoluzione industriale erano sempre tutti diversi, realizzati con cura, con maestria, che l'industria non può più permettersi. È uno stile che coinvolge tutta l'Europa e anche un po' gli Stati Uniti. Quanto riguarda in generale le arti, vediamo che viene superata la distinzione tra arti maggiori e minori, perché appunto non solo coinvolge l'artigianato, la produzione industriale, ma anche perché gli stessi artisti vogliono realizzare opere d'arte che coinvolgono tutti gli aspetti dell'arte. Per quanto riguarda lo stile, allora, l'art nouveau è caratterizzato dalla predominanza di una linea curva, a volte anche usata in maniera asimmetrica. È una linea che deriva dal mondo vegetale, si parla infatti di fitomorfismo, oppure di zoomorfismo, quando l'ispirazione deriva dal mondo animale. È una linea che è ondulata, sinuosa, decorativa e che disegna le sagome, le figure, ma anche gli sfondi e quindi è molto ornamentale. Abbiamo l'esempio appunto di Alphonse Mucha, che è stato uno dei massimi esponenti dello stile Liberty per quello che riguarda le arti applicate, quindi la cartellonistica. È un particolare invece di un'opera di Clint, che poi vedremo, dove vediamo appunto che anche lo sfondo viene caratterizzato da questi disegni a spirale, di questi girali che ricordano quasi l'arte greca o l'arte antica, e l'uso del colore oro, che è caratteristico poi dell'arte di Clint in particolare. Quindi dicevo appunto si ispira agli elementi della natura, vengono utilizzati degli elementi che creano intrecci ornamentali stilizzati, però molto spesso con un richiamo diretto alla natura. Generalmente la creazione, l'uso di questo decorativismo crea superfici bidimensionali, appiattite quindi sulle due dimensioni, e nelle arti applicate ci sono alcuni degli esiti più significativi ad opera per esempio di artisti come René Lalique, che è stato un orafo francese molto quotato, molto richiesto, ancora adesso anche le sue produzioni vengono vendute e sono molto pagate insomma sul mercato. Vediamo qui per esempio come spesso anche la parte decorativa coincide con la struttura dell'oggetto, pesiamo la spilla a forma di libellula, però con la testa umana, dove c'è un connubio tra i due elementi di struttura e di decorazione, oppure il pettinino con le api, con i fiori sopra, oppure la classica lampada in stile Tiffany diciamo noi, però in verità è sempre uno stile Liberty, perché è stato creato da Louis Comfort per Tiffany. Anche in questo caso, vedete, la struttura coincide con la funzione, perché per esempio non è solo un elemento decorativo, è una lampada che simula un albero pieno di fiori, sotto c'è un tronco molto stilizzato che è la base d'appoggio della lampada stessa e sopra questa specie di grande chioma fiorita e quindi le due dimensioni della strutture e della decorazione si intrecciano strettamente. Allora, vediamo un po' nel dettaglio i vari paesi. Art Nouveau nasce in Francia, appunto dicevamo, prende questo nome anche in Belgio, deriva da un negozio che vendeva oggetti d'arredo e in architettura abbiamo alcuni degli esiti più interessanti, come in questo caso l'hotel Tassel di Victor Horta. Vengono usati anche, appunto, soprattutto nell'architettura i nuovi materiali, come il ferro, che permette anche di realizzare strutture portanti, come queste colonne, che allo stesso tempo assolvono una dimensione decorativa. Vedete come la parte alta, che potremmo definire un capitello, ricorda un po' gli antichi capitelli egizi, dove avevamo il capitello a forma, papiriforme, perché prende la forma quasi di un fiore o comunque di un elemento vegetale che si prolunga a sostenere l'arco che sostiene l'ingresso, la volta dell'entrata. E quindi la sua struttura portante, la sua funzione portante è anche declinata in senso decorativo. Anche Victor Horta progetta tutti gli elementi di questa casa che egli realizza, non soltanto la struttura ma anche tutta la decorazione. Ed era uno spazio, questo che lui ha realizzato, in materiale innovativo appunto come il ferro, il vetro, che serve da collegamento invece fra due edifici realizzati in mattoni e nel quale Tassel riceveva gli ospiti. Quindi è un ambiente un po' di rappresentanza e appunto essendo l'Art Nouveau lo stile dell'alta borghesia in tutti i vari paesi d'Europa è anche appunto lo stile nuovo che viene adottato per realizzare questi edifici o queste parti di edificio in cui si entra in contatto con altre famiglie, in cui ci si mostra all'esterno. In Scozia e Inghilterra prende il nome invece di Modern Style o Liberty, dal nome anche qui di un negozio di Arthur Liberty che vendeva non solo mobili ma anche commerciava con l'Oriente e quindi altri prodotti di artigianato che provenivano da paesi esotici. In questo caso invece c'è lo stile molto particolare, in particolare noi stiamo vedendo Macintosh che anche lui progetta completamente una casa con tutti gli arredi, Hill House, ma, eccola qua, ho visto un particolare, qui lo stile è molto più squadrato, si basa su elementi che si incontrano ad angolo retto, ortogonalmente, ci sono spazi vuoti e pieni, la dimensione è quella del quadrato, del cubo e in questo modo abbiamo una struttura molto più, diciamo, rigida, a noi ricorda quello che poi sarà l'art déco. Anche in questo caso la casa è tutta progettata interno ed esterno da parte dell'artista, tanto che addirittura aveva dato dei consigli su quali fiori e quali colori di fiori recisi mettere all'interno della casa perché non stonasse con i colori adottati e con tutto l'insieme, quindi è un architetto veramente che poi diventa designer in senso totale a 360 gradi. Poi abbiamo in Austria invece lo stile appunto della secessione, la secessione on steel, le secessioni allora sono diverse, si sviluppano a Monaco, a Berlino e a Vienna, a ridosso degli stessi anni praticamente tra 1895 e il 97, il 97 è quella viennese e è un movimento di rottura con l'arte accademica tradizionale, però nello stesso tempo a Vienna viene accolta molto favorevolmente e quindi fa un grande successo presso la borghesia. Si tratta quindi di gruppi di artisti che vogliono rompere con la tradizione e creare quell'integrazione tra le arti o un'arte totale che è uno anche degli obiettivi dell'arte Liberty in generale. Il periodo viennese si caratterizza per una grande fioritura artistica e ci sono numerosi edifici che vengono realizzati in stile Liberty in questo periodo nella città, però siamo anche al tramonto dell'impero perché nel 1918 poi con il termine della guerra l'impero verrà sfaldato in una serie di stati autonomi e già la società viennese vive la crisi sociale e politica di quest'epoca. E questo che vi ho presentato è proprio il manifesto della rivista a cui sono legate la secessione di Vienna, Versacrum, nel frontespizio per la prima vostra elaborata da Koloman Moser. In Germania abbiamo invece appunto lo Jugendstil che significa giovane, stile della giovinezza, pubblicata a Monaco nel 1896, quindi gli anni della secessione di Monaco. In architettura viene rappresentata poi soprattutto da August Ender che è colui che ha realizzato l'atelier Elvira che era uno studio fotografico e sulla facciata compariva questo elemento decorativo, un po' difficile da decifrare ma diciamo che ricorda un'onda o un drago che sorge tra le acque e quindi è un motivo fitomorfo, anzi zoomorfo, che fece scuola anche in questo caso. Adesso noi non abbiamo più quest'opera purtroppo perché è stata distrutta dai nazisti nel 1933 e ci sono le fotografie in bianco e nero che ce la testimoniano. Anche nella parte bassa delle finestre possiamo notare l'uso del ferro o della ghisa per creare dei decori sempre con questo stile ondulato. Italia, stile Liberty o floreale, da noi arriva un po' più tardi, arriva in seguito a delle esposizioni, in particolare quella che si terrà a Torino. In questo caso abbiamo un villino da mare, si trova a Pesaro, affacciato quasi sul mare, villino Ruggeri, realizzato da Giuseppe Brega per Oreste Ruggeri che glielo commissiona quando Giuseppe Brega è giovanissimo, una ventina d'anni ed è uno degli esempi più belli, insomma, del nostro Liberty italiano. Ci sono altri artisti di questo periodo, altri architetti, abbiamo per esempio Ernesto Basile che realizza il villino Florio, quella famiglia Florio in Sicilia, oppure abbiamo Gino Coppedè che realizza un piccolo quartiere a Roma molto bello, molto caratteristico e tutto pensato da un suo stile preciso e poi abbiamo per esempio a Torino, Casa Fenoglio, siamo sempre in quegli anni, vedete, 1902, 1902, 1903, in questo caso è stata progettata da un ingegnere che è realizzata per se stesso, Pietro Fenoglio, ha elementi Liberty in facciata, ma anche la struttura della casa è ad angolo un po' mossa. Fenoglio ne aveva fatto il proprio studio, lo abita però per molto poco, però il punto di partenza di questa produzione è la mostra, la grande esposizione di arte decorativa moderna che si tiene a Torino proprio in quegli anni e quindi da lì esplode anche in Italia il fenomeno del Liberty. Milano, Casa Gallimberti, quindi un altro ambiente dove vediamo il decorativismo Liberty anche nelle raffigurazioni che ci sono in facciata, in questo caso Milano è un po' debitrice sia dell'Art Nouveau che dello Jugendstil tedesco. È l'arte della borghesia quindi, dell'alta borghesia industriale e commerciale che lo usa anche per distinguersi dalla classe nobile, per avere un linguaggio sobrio ma elegante che sia manifestazione del proprio potere economico. Modernismo catalano invece in Spagna. Il modernismo ha un linguaggio molto particolare perché unisce alle novità del Liberty la tradizione artistica più forte della Spagna di quel periodo che era rimasta come tradizione, quindi il gotico e soprattutto poi l'arte araba, l'arte rimasta in eredità insomma dalla cultura araba, quindi il decorativismo della calligrafia, ma anche per esempio gli azuleios, quindi le grandi decorazioni maiolicate, piastrellate. Il grande interprete di questa stagione è Anthony Gaudì che ha un linguaggio tutto personale ed è un caso municum, diciamo da un punto di vista artistico e che viene riscoperto diciamo in anni recenti, negli anni 40 quando si svilupperà l'architettura organica, circa 40-50. Il suo linguaggio molto innovativo è un po' apparentato con le novità più tardi. Partiamo quindi con Anthony Gaudì. Nasce nel 1852, è figlio di umili artigiani, studia però alla scuola di architettura dove può diplomarsi nel 78 e poi conosce Eusebio Guell che sarà il committente per Parco Guell e per diverse altre realizzazioni. Le sue prime opere non sono in stile modernista ovviamente, ma sono in stile eclettico che è quello stile dominante alla fine dell'Ottocento in Europa e anche in Italia che si ispirava agli stili artistici del passato, quindi rinascimento, barocco, gotico, medioevo in generale, ma poi molto presto riesce a elaborare un suo linguaggio assolutamente personale, ispirandosi alla natura, alle forme degli alberi, che dirà che siano i suoi maestri, alle forme animali e quindi anche i suoi stessi edifici diventano quasi organismi che sono in continuo mutamento e in continua trasformazione, ricchi di plasticismo come se fossero delle sculture e anche lui si dedicherà tantissimo all'uso dei nuovi materiali, cemento armato, ferro, eccetera. Casa Milà, detta la pedrera perché è tutta realizzata con pietre, fu realizzata per Roser Seguimon e Pere Milà, la mia pronuncia dello spagnolo non è adeguata, portate pazienza. La facciata è appunto in pietra ma richiama anche strutture naturali come potrebbero essere i canyon o grandi grandi montagne corrose dalla forza degli agenti atmosferici perché è molto ondulata e lavorata appunto quasi dall'aria o dal vento. La struttura però è realizzata con i nuovi materiali, quindi sotto come elementi portanti ci sono il cemento armato, il ferro, i mattoni e poi tutta la struttura rivestita di pietra. Ovviamente Gaudino rinuncia agli elementi decorativi quindi usa in vari punti il trencadis, che sono delle, assomiglia a mosaico ma non è definibile mosaico perché sono delle tessere di ceramica, di maiolica, spezzate di varie forme e dimensioni giuste apposte a creare motivi decorativi. Sono molto colorate quindi ed è anche questa una tradizione catalana, una tradizione che Gaudì reintroduce, ingloba nel nuovo stile. Questi sono i comignoli per esempio che assomigliano a scheletri animali, in altri casi vedremo assomigliano anche a dei guerrieri. I balconi e quindi le ringhiere sono realizzate in ferro battuto e sono tutte diverse tra di loro. Le forme appaiono anche in questo caso in espansione, proprio per quello stesso gioco che usavano gli artisti barocchi come Borromini, di rientranze e sporgenze e quindi sembra un organismo che respira, che si dilata, che si muove oppure appunto dicevamo una roccia modellata dall'azione di venti e di altre forze. Casa Milà è diventata poi patrimonio UNESCO già dal 1989 e poi entra insieme ad altre opere nel sito Anthony Gaudì che contiene altre realizzazioni artistiche del maestro che si trovano tutte a Barcellona. Era già monumento nazionale spagnolo. Da qui si vedono un po' più i dettagli della facciata, quindi vedete le pietre, vedete proprio le sagomature dei vari blocchi di pietra. Assomiglia quindi a una roccia scavata dal vento, potremmo pensare che l'acqua da questi buchi fuoriesce ancora, volendo pensare ad un fiume che passa e questa è una citazione da Gaudì che diceva il mio maestro è l'albero del giardino di fronte alla mia finestra. Tutto deriva dal grande libro della natura, quindi la sua fonte di ispirazione dichiaratamente è la natura e l'albero in particolare. Casa Milà ha un cortile interno che è uno spazio ovale molto ampio, una cornice lo borda qui in alto fino ad arrivare al tetto e tutto l'ambiente di tutti gli appartamenti che si affacciano ricevono quindi luce, aria dall'esterno e questo viene studiato insomma dall'artista. Io non so se possono partire i video del caso, che avevo due video di pochi minuti. Non si sentono? Ok. Non c'è parlato ma c'è solo musica, quindi l'importante sono... Se si riesce altrimenti riusciamo... Eventualmente lo facciamo vedere sul finale. Ok. No, no, venne lo stesso, perché si vedevano alcuni dettagli dell'interno. Io ritorno qua. Ecco qua, qui ci sono gli altri cammini che vi dicevo, che si assomigliano a dei guerrieri con l'elmetto. Le forme sono tutte diverse, vedete quanti cammini, eppure c'è una continua varietà. La Sagrada Famiglia, che è una delle opere più celebri di Gaudì, è anche l'opera più grandiosa. Lui ne inizia la costruzione nel 1882, ma non la terminerà mai, ed è evidente anche che lui stesso, come artista, sa che se inizia una cattedrale sarà un lavoro che supererà la durata della sua stessa vita. Infatti, lui vi lavora per 42 anni, ma non è ancora terminata. Probabilmente nel 2026 o 2030, a seconda delle varie stime, dipende anche dalla velocità con cui riescono ad andare avanti nel cantiere. Gli spunti per Gaudì sono diversi. Per esempio, il gotico, vediamo queste grandi guglie, potremmo definirle, che ci sono in facciata, la grande quantità di sculture che decorano i portali e le facciate stesse, e anche, in generale, il verticalismo di questa struttura. Però l'ispirazione va anche alla natura e alle sue forme, in particolare, di nuovo, all'albero. Sembra, in effetti, quasi una foresta pietrificata, ma questa è la vista dall'interno. Andiamo a vedere poi l'interno, di nuovo, come sarà. Perché, in effetti, anche dentro, sembra che ci siano degli alberi, che sono come questi viventi pilastri di cui parlava Baudelaire nei suoi fiori del male. E la luce filtra da aperture, che sono create da vetrate in molti colori, e quindi, all'interno, c'è una luce colorata, come era nella tradizione delle chiese gotiche, dove le vetrate erano colorate. Quindi è la natura, la fonte di ispirazione, con la sua perfezione, ma tutte le opere di Gaudì sono anche piene di significati simbolici e religiosi. Era una persona fortemente religiosa, aveva inserito simboli religiosi anche in casa Milà, solo che poi, per prudenza, perché c'era stata un'ondata di clericalismo, alcune cose erano state inserite più tardi, e poi nella Sagrada Famiglia, la quale lui dedica veramente tutta la sua vita, tanto da trasferirsi a vivere nel cantiere negli ultimi anni della sua esistenza. La chiesa raggiunge una altezza vertiginosa, siamo a circa 172 metri. Vengono realizzate, quando Gaudì invita, una sola facciata, che è la facciata della Natività, che è riccamente decorata da sculture, perché è dalla Natività che parte la salvezza dell'umanità. Ma poi ci sono le altre facciate della Passione e la facciata della Gloria, della Gloria di Cristo, che sono state realizzate in periodi successivi, in epoca successiva alla morte dell'artista, e una è in fase di completamento adesso. Qui abbiamo la facciata della Natività, invece che è quella più antica, dove vedete la moltitudine di sculture che proprio ci richiama il grande decorativismo del periodo gotico. I lavori di costruzione si erano interrotti per diversi anni, sono ripresi soltanto una cinquantina d'anni dopo la morte dell'artista, nel 1982, quindi diciamo il centenario della posa della prima pietra, dell'inizio dei lavori, vengono ripresi di nuovo. Non esisteva nessun progetto però da parte di Gaudì, lui lavorava sempre seguendo degli studi, degli schizzi, dei bozzetti, ma non aveva un unico progetto per la realizzazione dell'edificio, e tanto più che ci fu un incendio che distrusse una serie di progetti che lui aveva e quindi purtroppo tutti gli architetti che sono andati avanti dopo di lui, hanno dovuto seguire alcune indicazioni generali. Quindi la parte antica e quella nuova della basilica sono nettamente distinguibili. Questo è l'interno, lo vediamo un po' meglio, dove ci sono questi alti fusti di colonne che però sopra si ramificano come se diventassero una foresta che tende i propri rami a sostenere la volta. Vedete le luci colorate che penetrano dalle vetrate e dalle altre aperture. All'interno la chiesa è divisa in cinque navate, proprio dalle colonne. Questa è la veduta verso il rosone di facciata e invece queste sono tutte le ramificazioni verso la volta. Un po' ricorda anche le divisioni delle volte a crociera che potevano esserci in epoca gotica. Casa Batlò è un'altra opera caratteristica, molto visitata. Il committente fu Josep Batlò di Casanova, un altro facoltoso uomo catalano di Barcellona che aveva una fabbrica tessile. In entrambe le case, Casa Milano e Casa Batlò, sorgono su una delle arterie principali che erano state aperte in anni recenti da un architetto e un urbanista catalano e la borghesia fece a gara, diciamo, per comprare lotti di terreno e per realizzare le proprie abitazioni in quella zona, utilizzando quindi il nuovo stile e gli architetti più in boga, tra cui Gaudì, che era molto richiesto ed era diventato già famoso. Gaudì modifica, quindi, un edificio preesistente che Batlò aveva già acquistato e crea una superficie, anche in questo caso, molto mossa e ondulata, alla sua metà della quale pone una torre cilindrica, della quale poi parleremo un po' più nel dettaglio. La facciata è riccamente decorata, di nuovo, da vetri, da materiali di recupero, da ceramiche e quindi diventa quasi un dipinto, ha un trattamento pittorico, molto colorato, appunto, ma ricorda anche, soprattutto quando ci sono le luci forti che la illuminano, una superficie marina, proprio per questi effetti di riflesso. Anche questa, ovviamente, fa parte del patrimonio UNESCO dal 2005. Ecco, qui vedete il progetto, anzi, l'edificio preesistente e come Gaudì l'ha modificato. Vedete, le aperture delle finestre sono rispettate, perché sono nella stessa posizione, ma sono modificate nella forma, nella struttura. In questo caso viene aperta una grande balaustra balconata che dà sull'esterno, quindi diventa il luogo principale dove la famiglia si guardava verso la città e si faceva vedere. Poi abbiamo il primo piano, con delle aperture, anche qui, più ampie. Andiamo a vedere l'interno. Questo è il vestivolo privato della famiglia Batlò. Ricorda anche in questo caso un ambiente acquatico. Ci sono alcuni elementi, per esempio, andando su per la scala, ci sono dei lucernari che ricordano delle tartarughe marine che nuotano, il carapace della tartaruga, oppure questo corrimano ha la forma di un dorso, però osseo, di un grande animale marino che potrebbe essere lì ad insinuarsi e a salire verso l'interno della casa. Tutti gli spazi sono stati attentamente progettati da Gaudì, in stretta collaborazione anche poi con gli artigiani che hanno realizzato gli oggetti, per esempio anche i corrimani, le maniglie, tutto era attentamente studiato. Qua vediamo un altro dei pianerottoli con l'uso di queste piastrelle azzurrine che ci rimandano di nuovo al mare, stiamo salendo dal vestibolo. Qua un caminetto che è la forma di un fungo. E questo invece è il grande salone che affaccia verso la città e verso la strada principale di cui vi dicevo prima guardandolo dall'esterno. Anche in questo caso, sempre come è tipico del Liberty, funzionalità e decorazione sono allineate. Nel salone principale c'è l'uso di materiale pregiato come il legno, di mogano o di rovere e l'uso di vetri colorati che è una costante anche di Gaudì perché danno effetti di luminosità. Il soffitto vedete come si avvolge su se stesso a spirale, poi spunta il lampadario come se fosse un'emanazione stessa dal soffitto e ci dà l'idea che anche questo sia un organismo vivente oppure siano onde marine. Il tetto ricorda invece il dorso di un drago e questa torricina di cui parlavamo prima potrebbe essere, con il suo comignolo che ha la forma di una croce a quattro punte, potrebbe essere una spada conficcata, potrebbe essere l'elsa di una spada o di una lancia. E infatti si è pensato che i riferimenti siano alla leggenda di San Giorgio il Drago e quindi ha una simbologia anche in questo caso religiosa tanto più che San Giorgio è il patrono della Catalogna, il protettore. Anche in questo caso si vedono bene le maioliche colorate che avevamo già visto prima in facciata e i balconi hanno forme variegate, a forma di conchiglia oppure questi, vedete, che sono le ringhiere a forma di maschera veneziana e sono bianche o dorate. Questo è uno dei cortili posteriori che dà sul giardino e in questo caso viene usata la ceramica e la maiolica per creare dei bellissimi effetti decorativi ed era pensato per essere usato nei caldi pomeriggi estivi per poter avere un luogo di riparo e di ristoro. La soffitta, in questo caso Gaudì usa l'arco catenario che è un arco particolare, diciamo che è uno degli artisti che lo usa maggiormente, in Italia non c'è tanto questo uso, tipico del modernismo catalano e quindi è un arco che si sorregge da solo, che non ha bisogno di altre strutture portanti come pilastri e questo spazio diventa quindi completamente abitabile e usufruibile e ricorda la cassa toracica di un grande animale, potrebbe essere una balena oppure una specie di grande dinosauro, oppure questo stesso, perché siamo a sotto tetto, questo stesso drago che abbiamo visto più sopra con le squame tutte colorate. Il cortile centrale che ha la copertura data da un lucernario nella parte superiore e poi una serie di affacci di finestre. Le finestre hanno dimensioni diverse, mano a mano che si scende, sono sempre più larghe in modo che entri un po' più di aria, un po' più di luce e poi le stesse ceramiche, le piastrelle sono di colore sempre più chiaro, si va verso il bianco, quindi c'è un attento studio anche dei colori. I comignoli, anche questi sono policromi, sono studiati in modo tale che non entri all'interno il fumo, quindi c'è uno studio della funzione molto attento e decorazioni anche di nuovo con le ceramiche. Al piano terra invece le forme ricordano quelle delle ossa di animali giganteschi, pietrificati, potrebbero essere anche in questo caso, mentre un particolare di balconcini ci mostra la struttura in ferro che era fuso in un unico blocco e è attaccata solo attraverso due saldature laterali, diciamo così. Il tetto del drago, ho messo delle immagini per vederlo un po' più da vicino, perché vedete come ci dà veramente l'impressione di una schiena con le sue vertebre, la torricina qui a lato, e diciamo che poi ci sono state varie interpretazioni, perché non c'è un'interpretazione lasciata dall'artista, sono interpretazioni posteriori. Potrebbe non essere la leggenda di San Giorgio, c'era stato Salvador Dalì che lo interpretava come riferimenti alla natura, al mondo naturale, a questi alberi, a questi elementi di cui tanto comunque Gaudì parlava. Infatti la casa prende il nome di casa del drago, oppure casa delle ossa, a seconda di quali elementi vengono visionati per primi. Questo sarebbe il secondo video, lo vediamo dopo se si riesce. Passiamo un po' all'ambiente tedesco, quindi torniamo in Austria. Abbiamo Josef Maria Holbrich, che è stato uno degli architetti della secessione viennese. Questo è il palazzo della secessione, che è stato progettato da Klint, però poi modificato da Holbrich, e che ha inserito questa cupola sferica sulla parte superiore che tanto lo caratterizza, realizzata in rame, con copertura a foglia d'oro, che simula una serie di motivi floreali, che sono tutti traforati e danno luce all'interno. Invece la parte inferiore, tutta bianca, è costituita da una serie di blocchi molto più squadrati e anche molto più semplici, meno decorativi, in un certo senso. La facciata vista frontalmente, l'ingresso, nell'idea iniziale di Klint, assomigliava un po' agli ingressi dei grandi templi egizi, con i due piloni laterali, da cui poi si affronta il viale di accesso. L'idea di Klint era quella di inserire un frontone classico nella parte superiore, che poi viene appunto modificato da Holbrich. e in facciata poi compare anche la scritta, che traduco solo in italiano, ogni tempo la sua arte, all'arte la sua libertà, proprio volutamente da parte dei secessionisti per significare come questo è il tempo di una nuova arte, anche in contrapposizione con l'arte accademica, ed è l'arte nuova, che si sviluppa da parte di artisti giovani e liberi. Questa scritta verrà rimossa nel periodo della dominazione nazista in Austria, perché ovviamente riferimenti alla libertà, se non in senso ironico, non potevano esserci. Gustav Klint ovviamente è l'esponente più noto dell'arte della secessione viennese. Nasce nel 1862, muore nel 1918, muore quindi abbastanza giovane, poco più che cinquantenne, è il principale esponente della secessione viennese, della quale viene eletto presidente, proprio nel 1897, è figlio di un incisore eorafo, Ernest Klint, e di una giovane donna, Ann Finster, che amava molto la musica lirica. E quindi Klint eredita la passione per l'arte, in senso totale, che poi avrà un certo riflesso anche sulla sua produzione, in particolare poi quando viene realizzata la prima mostra all'interno del palazzo della secessione viennese, dedicata a Beethoven. Fondamentale per la sua arte sarà il viaggio fatto in Italia, a Ravenna, Venezia, dove vedrà soprattutto i mosaici, San Marco e poi tutte le varie basiliche che abbiamo a Ravenna, San Vitale, San Napolinare Nuovo, San Napolinare in classe, e quindi inizierà il suo periodo d'oro, cioè caratterizzato dall'uso dell'oro. In generale la sua pittura si caratterizza anche per la presenza di una linea sinuosa, che domina la pittura e che in un certo senso anche sommerge le figure, che emergono soltanto per i particolari del volto, mentre tutto lo sfondo e anche le vesti stesse sono estremamente decorative, sommerse anzi da decorazioni molto simboliche. Il ritratto di Adele Blockbauer è uno, perché ce ne sono due, ed è l'unica persona nella quale Clint realizza due ritratti. realizzato nel 1907 è l'opera più significativa appunto di questo periodo d'oro, di questo periodo dorato di Clint. Non è l'unica però che è frutto poi del viaggio condotto a Ravenna. Adele viene ritratta, vedete, su uno sfondo completamente dorato, ma la stessa veste e la poltrona sulla quale sarebbe seduta sono riempite di elementi decorativi di colore oro. Compaiono vari simboli, compaiono triangoli, cerchi, l'occhio egizio, triangoli. E questa pittura è anche in rilievo, ci dà veramente l'impressione, vedendola da vicino anche con le luci giuste, e ci dà l'impressione di una grande materialità, insomma, della presenza di materia, come potrebbero essere i mosaici veri e propri, e non è solo pittura stesa a pennello. E vedete in questo caso l'emergere della figura dallo sfondo, la sua pelle bianca, il suo incarnato per l'aceo, ma tutto il resto trascina la figura ad una dimensione bidimensionale, non c'è chiaroscuro, c'è poco effetto di plasticità nel corpo e soprattutto nelle vesti, dove la figura addirittura sembra scomparire. Adele Blochbauer si sposa con un importante industriale, e quindi prende il doppio cognome, appunto Bloch, che è quello che eredita, ma sappiamo anche che discende da un'importante famiglia ebraica viennese, e purtroppo questo dipinto seguirà un po' le sorti della sua padrona, perché viene sequestrato dai nazisti e resterà poi in eredità, diciamo, allo Stato austriaco fino al 2006, quando una discendente di Adele riuscirà ad ottenere la restituzione di quest'opera alla famiglia, ma questa discendente vive negli Stati Uniti, quindi dopo aver intentato la causa, vince, ne viene riconosciuto, probabilmente anche in base agli ordinamenti internazionali e alle varie convenzioni firmate dagli Stati che prevedono la restituzione dell'opera d'arte nel caso in cui venga indebitamente sottratta, e quindi in un certo senso lo stesso Stato austriaco si configurava come un detentore abusivo di quest'opera, e quindi adesso è conservata all'estero, è conservata non più a Vienna, come è scritto qua sotto, ma è conservata a New York. Allora, vedendo nei dettagli, vediamo come tutti i particolari della decorazione servono a esaltare la bellezza del soggetto, ma anche essi stessi si fanno soggetto, perché in un certo modo noi siamo indotti a osservarli tutti con attenzione e andando a scoprire tutti i vari particolari, quindi di nuovo per esempio anche la presenza dell'occhio egizio, che è quest'occhio di Dio, ma anche di tradizione orientale che sembra vedere tutto, che si trova nell'abito, e vediamo una serie di forme geometriche in motivi a spirali che sono tipici dell'arte di Klint e gli unici elementi che possono delimitarci un po' lo spazio sono questi piccoli scacchi bianchi e neri che segnano la linea del pavimento, quindi per il resto domina la bidimensionalità e il decorativismo. Gustav Klint, L'albero della vita. Allora qui siamo nella decorazione del palazzo Stoklet che però è a Bruxelles, 1905-1909, quindi sono tutti gli anni del periodo Liberty che ha il suo massimo nel primo decennio del Novecento. In quest'opera vengono esposte una serie di simbologie legate alla vita e all'amore. Klint aveva una visione particolare della donna, soprattutto nelle opere precedenti al periodo secessionista, era vista come una femme fatale e ne aveva dato varie interpretazioni come bisce d'acqua, l'onda, ce ne sono diverse dove la donna appare come una figura carica di seduzione e di fascino. In quest'opera tenta quasi una sorta di ricongiungimento tra l'elemento maschile e quello femminile e in questo fregio c'è un percorso che va dalla donna che viene chiamata l'attesa che sta sul lato diciamo sinistro la veste è tutta decorata da motivi triangolari quindi punte linee spezzate passa attraverso l'albero della vita che è carico di simboli ci sono alcuni animali che stanno fra i suoi rami ci sono anche qui gli occhi egizi in questo caso poi la stessa famiglia Stoklet amava molto circondarsi di oggetti orientali e quindi la tradizione egizia ma anche collezionava opere provenienti da altre parti del mondo e quindi Clint cerca di soddisfare le esigenze del committente il gusto del committente e di allinearsi un po' alle sue aspettative e poi si arriva all'ultima parte del pannello in cui c'è il ricongiungimento e ci sono questi due amanti che si stringono in un abbraccio qui vediamo la sala da pranzo dove si trova il freggio vero e proprio che è realizzato in mosaico e pietre colorate i cartoni preparatori invece sono ancora conservati a Vienna quindi diciamo l'opera finale si trova invece a Bruxelles in questi pannelli decorativi appunto era stato Stoklet Adolf Stoklet a richiedere l'intervento non solo però di Clint perché lui si rivolge ad un gruppo di artisti che fanno parte della Vienna Erbeckstadt del quale faceva parte anche un architetto che è Josef Hoffman ed è il realizzatore del bozzetto e del progetto insomma della casa che poi viene decorata da Clint attraverso il freggio qua vediamo un particolare dell'albero della vita così si vedono un po' meglio la presenza di questi occhi di alcuni sembrano rapaci quindi un po' la tradizione egizia che ci sovviene elementi fitomorfi che ricordano un po' i fiori e le girali che avevamo già intravisto inizialmente nelle vesti e negli sfondi delle prime opere che abbiamo accennato l'opera doveva quindi configurarsi come un'opera d'arte totale ed è una di queste caratteristiche dell'arte nouveau che abbiamo visto dove decorazione e progettazione decorativa e progettazione architettonica e mobilio e ogni altro elemento andavano di pari passo tanto che lo stesso Stocklett fu soddisfattissimo dell'esito della propria casa e lo dichiarò la casa perfetta in assoluto l'albero della vita nella sua simbologia simboleggia appunto il ciclo della natura la nascita e la rinascita il ciclo delle stagioni la vita e la morte ed è però un simbolo appunto di vita l'ultima parte è il compimento questo abbraccio dei due personaggi che sembrano unirsi in un abbraccio fusionale nel quale le due figure scompaiono ne resta quasi una sola i due amanti si stringono amorevolmente e paiono essere anche al sicuro da ogni possibile minaccia esterna sono avvolti dalle girali dell'albero della vita sono protetti si trovano in un luogo sicuro le forme geometriche anche in questo caso tendono al piattimento delle figure stesse però sono leggermente diverse per l'uomo e per la donna cosa che sarà ancora più evidente nel bacio vediamo forme circolari e forme rettangolari e quadrate che si alternano nelle due vesti i motivi decorativi sono quindi sono astratti però vengono astratti dalla natura abstrarre tirare fuori e quindi sono molto eleganti molto decorative qui abbiamo già visto insomma il rimando agli elementi fitomorfi e naturali lo sfondo invece è colorato sempre con questo tono d'oro sul quale le girali poi spiccano ulteriormente e quindi continua a esserci questo riferimento ai mosaici e anche la tradizione orafa nella quale lui si è formato all'interno della sua famiglia il bacio è sicuramente l'opera più famosa a torto o a ragione comunque anche a Dele Blochbauer e celeberrima e viene realizzato sempre negli stessi anni vedete in pochissimo di tempo quindi siamo nel 1907 ed è ispirato anche in questo caso sempre all'arte bizantina le due figure però in questo caso sono un po' diverse da quelle del ricongiungimento che abbiamo appena visto allora la coppia è molto vicina anche in questo caso strettamente unita circondata da un'aureola dorata che sembra volerla unificare ulteriormente uno stesso sfondo uniforme le linee hanno un andamento molto curvo e i contorni sono ben distinguibili però le due figure sembrano in qualche modo in lotta tra loro perché la figura femminile non si abbandona come nell'altro dipinto ma sembra puntare i piedi a terra e quasi ricevere questo bacio con la tendenza un po' a sottrarsi quindi è stato interpretato veramente questo dipinto come un simbolo di una riconciliazione tra i due sessi del quale a lungo Clint aveva raccontato un po' la dualità e appunto questa figura femminile che era fan fatal pericolosa o ricongiungimento oppure ancora lotta �만i ancora tensione ancora antagonismo ci sono interpretazioni leggermente diverse perché l'uomo sembra essere dominante nel suo atteggiamento di questo bacio molto appassionato sotto di loro c'è un prato vedete che è l'unico elemento che si distacca come colore dal resto compaiono i verdi per esempio ma non riesce a creare veramente una superficie tridimensionale sulla quale i due appoggiano tutto è sempre appiattito in superficie per le due figure vengono usate dei rimomettivi decorativi diversi quadrati e rettangoli per l'uomo e invece fiori per la donna quindi elementi circolari il capo dell'uomo è cinto da foglie d'edera veste una tunica più ampia di rispetto a quella della donna che invece è attillata e appunto le forme sono più evidenziate potrebbe essere una rappresentazione dello stesso Clint insieme alla sua amante Emily Flog che indossava queste vesti disegnate da lei poi anche appunto Clint indossava le stesse progettate insomma dalla sua innamorata e quindi in qualche modo potrebbe esserci una trasposizione a livello pittorico dei due protagonisti della vicenda amorosa Clint non è per sempre artista della secessione si avvia sempre oltre gli anni dieci insomma sempre più verso l'espressionismo qui vediamo una delle sue ultime opere siamo nel 14 nella quale subisce l'influenza di un artista che fa parte della secessione viennese che poi un po' gli succederà per brevissimo tempo dopo la morte di Clint che è Egon Schiller e l'influsso anche di Oscar Kokoschka quindi di questi colori accesi che lasciano sempre la figura sulla bidimensionalità tolgono profondità spaziale però sono colori più violenti sono colori giocati sui rossi sui toni accesi ad ogni modo e scompare quel decorativismo dorato che c'era inizialmente anche il giapponismo è un'altra arte che influenzerà molto Clint e si vede molto in queste ultime opere ma anche quest'arte è bidimensionale rifiuta il chiaroscuro usa campiture piatte quindi evidentemente l'arte di Clint non tende mai tanto alla tridimensionalità volevo farvi vedere il secondo ritratto di Adele Blochbauer lo vedete nel 12 come è diverso perché appunto abbiamo l'influsso di Kokoschka e dell'espressionismo e quindi questi colori molto accesi i rossi i verdi però la bidimensionalità permane le figure femminili però restano sempre molto eleganti proprio anche grazie all'uso della linea curva della linea ondulata che sottolinea il corpo femminile e le forme delicate delle donne non poteva mancare Alphonse Muha artista cecoslovacco anzi all'epoca solo cieco perché abitava in Moravia non c'era ancora l'unificazione poi noi abbiamo Repubblica Ceca e poi la Slovacchia quindi varie vicissitudini di questa terra è stato pittore ma pittore soprattutto di cartellone è stato cartellonista e poi realizzerò realizza anche negli anni più tardi della sua vita una celeberrima opera di pittura precorre l'arte grafica proprio perché i suoi cartelloni sono studiati da un punto di vista dell'impaginazione e del design in maniera molto attenta e quindi danno avvio a un'arte che sarà poi molto sfruttata nel novecento e nel nostro secolo attraverso questi cartelloni pubblicizzano non solo prodotti di consumo ma anche il teatro gli spettacoli che vengono realizzati in quel periodo e proprio attraverso questo diventerà molto famoso inizialmente si dedica a realizzare i cartelloni insieme ad una compagnia teatrale ed è scenografo anche con questa compagnia poi purtroppo la compagnia per vicende legate anche a un disastroso incendio si scioglie Mucer deve rientrare al suo paese ritorna poi a Vienna per studiare e poi riesce a trasferirsi finalmente a Parigi dove completa gli studi e in questo modo diciamo inizia ad avere quei contatti che gli daranno la possibilità di acquisire una grande fama siamo nel 1885 comunque ancora molto giovane il contatto importante della sua vita è quello con l'attrice Sara Bernard che è molto famosa molto richiesta e che interpreta anche opere che vengono apposta tagliate su di lei come Medea come anche una rielaborazione del Macbeth dove la interpreta Lady Macbeth diventa l'unica protagonista quindi è famosa e molto apprezzata realizza per lei il primo cartellone che è per la rappresentazione di Gismonda 1894 e da lì Sara Bernard resta così colpita così ammagliata dall'arte di Muca che gli chiede di realizzare una serie di cartelloni pubblicitari e sigla un contratto non di esclusiva ma diciamo in cui lo vincola per sei anni per realizzare altre locandine per esempio Medea dove lei è di nuovo protagonista sempre Sara Bernard vedete come c'è una grande attenzione da parte di Muca al lettering alla disposizione degli elementi figurativi alla posizione delle scritte e questo per esempio è un carattere che rimanda potrebbe essere al greco anche se è scritto comunque con il nostro alfabeto e quindi c'è un attento studio della composizione ma anche proprio della parte di lettering in modo da realizzare un'opera d'arte in tutti i sensi non solo per la parte figurativa la collaborazione con Sara Bernard è il trampolino di lancio di Alphonse Muca che diventa il cartellonista pubblicitario più richiesto per le grandi marche dell'epoca e poi anche per quelle del novecento Moet Chardon Sté diventa così famoso e così importante che gli viene assegnata la massima onorificenza francese della Repubblica francese che era legion d'onore che era stata data a suo tempo anche ad artisti come Delacroix le quattro stagioni invece questa è un'opera pittorica vera e propria nella quale vengono evidenziate le eleganze delle figure femminili il loro aspetto sinuoso e quindi la bellezza della donna che raggiunge nel Liberty e in particolare grazie a Muca una grande evidenza che viene fortemente sottolineata sono cariche di sensualità ma anche di leggiadria tra l'11 e il 26 per molti anni si dedica poi a una serie di tele che sono di grandi dimensioni sono oltre 6 metri 6 per 8 quindi sono circa un rettangolo molto grande di pittura che hanno l'intenzione di celebrare il popolo slavo questa opera quindi lo impegna per molto tempo sono una ventina di tele e viene completata nel 1928 ma quest'opera segna anche il livello del patriottismo dello stesso Muca che celebra appunto il proprio paese e purtroppo questo suo patriottismo gli costerà un diciamo un arresto da parte della polizia tedesca nel 1939 quando anche la Repubblica cecoslovacca viene invasa e viene arrestato viene interrogato in maniera piuttosto dura tanto che pochi mesi dopo Muca muore incontrava un'infezione polmonare non so se si ha a seguito dell'interrogatorio oppure se si ha a seguito delle condizioni di prostrazione profonda nella quale si ritrova dopo essere stato liberato e quindi Muca improvvisamente aveva 79 anni quindi diciamo circa un'ottantina d'anni ai suoi funerali partecipa una folla immensa scuote veramente l'opinione pubblica del proprio paese che resta molto scossa e purtroppo muore improvvisamente quindi lasciando tutti i sgomenti ma volevo farvi vedere alcuni esempi anche di opere d'arte legate al design che avevamo soltanto nominato prima e quindi abbiamo per esempio la lampada Loi Fuller che è progettata e questo è il sostegno della lampada la lampada vera e proprio sopra manca però vedete come si configura di nuovo come un'opera d'arte totale perché un'opera d'arte di design insomma che vuole coinvolgere sia l'aspetto pratico che l'aspetto funzionale e il decorativismo va di pari passo con la funzione la base della lampada quindi diventa la figura di Loi Fuller che era una ballerina molto famosa nell'ottocento tra l'ottocento e i primi del novecento per le danze con i veli è stata una delle prime ballerine che ha iniziato pur avendo diciamo indossando le scarpette facendo qualcosa che sembra molto legato alla tradizione della danza in realtà lei non era una danzatrice danza non l'aveva mai studiata ma libera la danza dagli schematismi e utilizza soltanto il proprio corpo i veli e le luci che lei stesso progetta per creare una danza dinamica con effetti di forte movimento e di forte dinamismo date proprio dai veli lei fa grande successo con questa sua tecnica tanto che appunto le viene dedicata anche questa lampada e ci dà l'impressione appunto di un continuo dinamismo delle forme come se anche in questo caso fossimo di fronte ad un organismo in divenire oppure a una figura che si sta realmente muovendo ecco qui ho sfruttato a mettervi la fotografia vista dall'alto insomma di questa danza che lei faceva con i veli quindi lei diventa quasi una specie di fiore all'interno di una serie di petali che si aprono però utilizzava anche le luci colorate che creavano effetti diversi a seconda dei movimenti per ultimo Henry van de Velde quindi uno degli esponenti del del Liberty in ambito belga si è già nascosto volevo farvi vedere solo il mobile allora questa è una scrivania in legno pregiato e anche in questo caso l'ispirazione va a forme naturali forme fitomorfe e progetta ogni particolare le maniglie la lampada che sta sul tavolo e anche in questo caso dominano le linee sinuose le linee morbide che vanno a fare un tutt'uno in un certo senso con il materiale di cui è fatto la scrivania è una scrivania di legno e il richiamo è sempre all'albero agli alberi con i loro rami con le loro foglie con questi elementi sinuosi quindi la fonte di ispirazione per tutti questi artisti del periodo dell'art nouveau è sempre la natura interpretata variamente a seconda poi delle tendenze che abbiamo visto io questa sera avrei concluso e ho sempre poi le indicazioni della bibliografia se abbiamo un attimo possiamo provare a vedere i due video